Siamo in casa La Vermicocca, qui abitano Aleksandro, russo, e abita anche Simone, ucraino. Cosa li accomuna? Sono due fratelli, fratelli che tanti anni fa sono stati adottati da mamma Vittoria e papà Pietro. Simone, intanto tu sei ucraino, come stai vivendo questa situazione? Beh, è una situazione che credo non faccia piacere a nessuno. Non è bello vedere queste immagini perché non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo punto. Alessandro, tu sei il fratello più piccolo, rappresenti in questo momento la Russia. Che cosa vuoi comunicare ai tuoi connazionali? Sì, intanto concordo con le parole di mio fratello. Penso che in questo periodo, ormai nel 2022, parlare ancora di guerra è qualcosa di indecente. Simone, hai qualche ricordo di Kiev, dell'Ucraina in generale? Comunque dei bei ricordi, anche se, ripeto, erano molto sfocati. E mi fa molto male vedere le foto di com'era e di com'è oggi purtroppo l'Ucraina. Alessandro, tra l'altro oggi è il tuo compleanno, ti facciamo gli auguri. Allora, un auspicio. Cosa vorresti di regalo? Magari che questa situazione finisse al più presto, anche perché è comunque un pericolo che scoppia in una guerra più seria. E quindi spero che si risolva nella maniera più civile possibile. E quindi questo spero per tutti. Allora, facciamo così, un gesto di pace a partire da due fratelli che si conoscono da tanti anni e rappresentano due nazioni diverse. Grazie a tutti.